oh guardate la zona bravo va bene usa il sasso un pezzettino del sasso devi usarlo quando arrivi qua se tu butti sul davanti il dietro ti viene dietro da solo lì in mezzo non serve che il davanti vada di lì gira eh qua ti voglio chiudi bravo chiudi tutte curvette tutto contro pendenza questa devi fare è giunta contro pendenza e basta lascia lì distancare dopo lo fai al contrario ma schietro quanto ti frega la gente oh oh Ah ecco, 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 ecco. il peso, eri tutto avanti peso indietro quando scendi poi già si assenta pensa di andare già su calcola che indietro scivola giù hai capito? guarda dove hai la spalla e dove hai il culo intanto che fai la forma di lì ma hai pesi fa la curva di lì ha la spalla qui 77 si anche meno ma lo devi usare come l'ha fatta lui devi farla diversamente l'hai vista tu l'hai vista fai Andrea va l'uomo ragno vai l'uomo ragno allora fa lui Andrea la sa dai così destra subito tutta così dai che c'è il minder sali pure un po' sali vieni giù più dritto possibile dove? vieni qua sei più dritto devi usare il sasso per andare via devi andare il sasso se no non ci passi bravo vieni la porta quindi questo non è la porta vieni 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 su se scendi diritto e usi questo davanti ti va su ma dietro ti sale là provala già da lì a fare il sasso va bene lo stesso guarda che dietro ti scivola vuoi dire se no si punta capito si vabbè ma un po' di stretta no vai piano i pesi leggerisci di che sei capace sali vai senti qui ci va tu sali di qui vai fino a questo al final ti può fare perché vieni di qua perché vieni di qua ragionate sul peso giù giù non è un po' stretta e se sposti spostala no si e no se spostiamo non è più non è più guidata tanto se è solo te che sposta c'eri comunque ci stava non è più di là va a dar c'è veniva una foto della madonna